Da allenatore oggi mi rende più contento è che nei primi 20-25 minuti non eravamo noi, abbiamo sbagliato anche dei passaggi elementari, non abbiamo avuto la serenità necessaria per poterci esprimere subito in maniera importante, però proprio qui è stato il punto perché la reazione della squadra nel non disunirsi e di reagire alle difficoltà penso che per un allenatore sia la risposta migliore perché dal venticinquesimo del primo tempo in poi credo che sia stato un crescendo continuo fino al secondo tempo che penso abbiamo gestito senza concedere un tiro in porta alla Juve e nonostante tutto creare almeno 3-4 situazioni per poter chiudere la partita. A fine primo tempo ho chiesto ai ragazzi di non abbassarsi ma di cercare di chiudere la partita e di cercare di avere coraggio, perché tanto se ci fossimo difesi e basta penso che alla lunga ad una squadra come la Juventus avremmo concesso qualcosa, quindi l'hanno interpretata secondo me nella maniera giusta, peccato non averla chiusa perché poi dopo voi sapete benissimo che basta un episodio, vedi se vi è andata, che poteva riaprire una partita che insomma gli stavamo vincendo meritatamente. Sì è stata una scelta quella di uscire alto sia con un commentale che con Graziano e Parodi perché sappiamo che insomma una squadra che se aggredita poteva andare in difficoltà, la loro qualità, se la si lascia esprimere con dei tempi abbastanza elevati può mettere in difficoltà chiunque, invece se siamo riusciti secondo me a togliere grande fonte del gioco la Juventus è stato proprio grazie a questo. Sicuramente c'è stato l'approccio giusto, era una gara che richiedeva la massima attenzione, la massima concentrazione per tutto l'arco dei 95 minuti perché sapevamo che l'episodio poteva fare incanalare la partita in maniera diversa, vedi il derby di Coppa Italia dove per i 25 minuti iniziali eravamo stati secondo me perfetti e dopo una punizione e una disattenzione ci aveva portato sotto di due gol, quindi queste sono le partite, quindi bisognava assolutamente giocare da squadra natura, da squadra concreta, da squadra cinica e penso che i ragazzi l'abbiano interpretata davvero molto bene. Non finirò mai di ringraziare i tifosi che ci sostengono per il semplice motivo che la passione che si respira in questa società, in questa squadra anche a livello giovanile penso sia unica in Italia, permettetemelo, ma non credo in Italia ci siano formazioni primavera che abbiano la fortuna di essere sostenuti dal primo minuto al 95esimo dalla tifoseria, quindi noi non possiamo che ringraziare questa gente che comunque è stata il nostro dodicesimo uomo perché, ripeto, con l'entusiasmo che ci hanno trasmesso sicuramente anche loro hanno fatto la loro parte.